Ragazzi, Warren vi manda degli shot. Conoscete le regole della casa. Se lui manda gli shot, voi ve li dovete scolare. Perché? Ehi, sono le regole, piccola. Warren dice noi facciamo. Quanto l'adoro questa filosofia. Warren dice noi facciamo. Allora, ragazzi, facciamo. Sì. Ma che roba? Tutto. Prima si beve e poi le domande. Via, parlo dai cavalli. Ah. Allora, è una cosa fantastica o non è una cosa fantastica? Ma che cazzo di roba è? Short rules. L'unico liquore così buono che ha dato il nome a un colore. E' pronto per dos, short rules. E' troppo. Vado fuori a farti una sigaretta. Non avvicinarti troppo all'accendino, eh?